Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos, la vera e unica regina dei rally, uscita numero 61, il modello è in scala 1 a 8, l'edizione Centauria. Vi dico subito che questo è un montaggio abbastanza impegnativo. A mio parere non è stato spiegato bene con le immagini perché mancano i primi piani e questo purtroppo succede in tante collezioni e mi dispiace perché comunque le foto non solo andrebbero fatte con una risoluzione migliore e comunque dovrebbero anche contenere proprio la giusta ubicazione, la giusta posizione di dove un materiale, un elemento ecco, non un materiale, un elemento va collocato. Detto questo vi chiederei di seguirmi perché mi sono sempre impegnato nei miei video. Sapete che il canale di Michele non è un canale che si limita al solo montaggio ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà proprio nel montare il proprio modello per evitare che possiate creare dei danni. Però ecco, qui veramente c'è da lavorare. Nulla è impossibile, però bisogna fare attenzione. Per cui questo sarà un video atipico perché inizierà dalla fine, o meglio, io ho montato già tutto il modello che poi vedrete, quello che riguarda ovviamente l'ultima uscita, la 61, e poi andrò a smontarlo davanti a voi. Perché? Perché ho ritenuto che fosse la cosa più semplice per voi da comprendere e anche per me, se avessi visto un filmato del genere, perché andare a fare tutti i passaggi che ci dicono loro, ci complica veramente la vita. Vedrete che è molto più semplice così e capirete anche, se ci fosse qualcuno che non ha compreso il giusto passaggio dei cavi, capirete anche le giuste posizioni. Detto questo saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, perché siete voi la vita del canale e vi ringrazio con tutto il mio cuore. Alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, dico questo. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Saluto intanto Giovanni, che oltre a farla io mi ha commissionato anche la Lancia Stratos e la Audi 4. Riccardo, che mi ha commissionato il ripristino totale del suo Ironman, l'armatura di Ironman e Diego, che mi ha commissionato la Valentino Rossi. Grazie a tutti ragazzi. Andiamo avanti. Mi raccomando, non mandate avanti veloce il video, come molti di voi fanno e non si fa, perché vi perdete dei passaggi importanti. È un video molto articolato. Potrà anche capitare che io passi da una fase all'altra, perché magari mi sono dimenticato di farvi vedere un passaggio, ma se voi mi seguite attentamente non vi crea alcun problema. Questo è il montaggio che dovremo avere alla fine. Vi ricordo che questa macchina, oltre ai tanti titoli, ha vinto il Rally di Monte Carlo del 1976, con il pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Ecco qua Sandro Munari, come c'è scritto qui nella didascalia, in piena azione nella pioggia al Rally del Portogallo del 1976, da lui vinto. Alla fine restate con me, perché prendo tutto quello che ho montato, fino al numero 61, e poi ci salutiamo. Un solo appunto che mi ha fatto notare Giovanni. Ecco qui. Avevamo già visto che le ruote, così come c'erano state presentate nella prima uscita, avevano la scritta in bianco, e anche questo stemma qui, e sono secondo me molto gradevoli, per cui, ammesso che mai arrivi alla Centauri a quello che io chiedo, sarebbe giusto comunque farci avere i quattro copertoni, così come ci sono stati fatti vedere, perché è così che uno sceglie il modello, e così si aspetta che sia. Poi, guardate, Giovanni mi faceva notare questo, le cinture di sicurezza sono OMP e non Britax, che poi, sempre secondo quanto mi ha detto lui, sono successive alla Sabelt, quindi OMP, Sabelt e poi Britax. Ecco, sarebbe stato giusto, anche se sono bellissime così come sono, però, giusto per correttezza, sarebbe stato giusto farci avere quello che vediamo qui, cioè le OMP. Detto questo, passiamo al numero 61, che a molti di voi ha fatto perdere la testa, anche a me un po', perché, come ripeto, le immagini non sono affatto chiare. Guardate, questo è il modello montato correttamente, potrete vedere che manca l'estintore e il vetro qua, dietro dell'unotto termico, ma non è un problema perché è la cosa più semplice e la vedremo insieme successivamente. Quello che ci interessa di più è questo. Non guardate che ho messo il nastro carta, perché il nastro nero lo metterò poi quando nuovamente rimonterò tutto. Adesso dovrò rimuovere tutto per farvi vedere a voi. Comunque, questo è quello che dovrete avere a voi alla fine. Guardate, ve lo dico prima perché ho paura che poi, visto che non sono poche le cose che vi dovrò dire, magari rischio di dimenticarmene. Quando dovete passare dei fili sotto, dovete fare attenzione che la battuta della plastica, per capirci questa, dove presumibilmente poi, come in questo caso succederà, ci andrà sotto il fondo, che andrà imbattuta su questo bordo. Non dovete uscire fuori, quindi facendo accavallare le varie utenze, i cavi, i tubi. Perché? Perché poi, nel momento in cui andate ad avvitare, i cavi fanno spessore e non vanno imbattuta dove dovrebbero andare. Probabilmente qui avremo lo spazio, perché poi ci sarà anche questo da fare passare, l'andata e il ritorno dell'acqua del radiatore. Però è una cosa che vi consiglio di imparare, proprio per evitare quello che vi ho appena detto. Adesso guardate, andiamo prima a fare questo, ovviamente voi non farete questo, lo faccio io per poi facilitarvi nel montaggio vero e proprio. Quando mettete i nastri, fate una piegatura, collante contro collante, così poi, quando andrete a rimuoverli, sarà tutto più semplice. Quello che sto facendo adesso io, ovviamente voi non dovete farlo. Poi capirete perché lo sto facendo. Non vi preoccupate poi per il piantone dello sterzo che andrà successivamente messo, perché vi basterà rimuovere queste due viti, fare così, e si riuscirà a fissarlo. Quindi non vi preoccupate di questo. Pensate solo a seguirmi senza mandare avanti, perché anche se il filmato verrà un po' più lungo dei miei soliti video, questo serve a voi. Io l'ho già fatto. Poi, vedete voi, quello che mi interessa è che poi non mi facciate domande, le quali risposte sono tutte contenute nel video. Adesso guardate perché questa è la cosa importantissima. Cercherò di farvi un primo piano per farvi vedere dove dovete far passare i cavi, ma non è finita, perché poi vi facilito ancora di più, ma voglio darvi anche una visuale di questo. Guardate bene. Qui abbiamo la prima, che è la pompa, questa qua, del freno. La seconda, che è la pompa della frizione, queste due cose grigie. Poi abbiamo i vari tubi attaccati. Voi prendete il primo tubo qui, della prima colonna argentata, che vi ho già spiegato cosa è, e poi prendete il primo tubo a fianco della seconda colonna argentata, più, come potete vedere, questo cavo qui, che è attaccato, rosso e verde. Ok? Andrà fatto passare tra il pedale della frizione, guardate, e la plastica qui. Ok? Quello che è importante, e che purtroppo molti avranno fatto, è questo. Un errore molto comune. Far passare i due tubi, qui, dell'olio della frizione e dei freni, tra questa parte qui, che è imbattuta contro il metallo. No! I tubi, che sono due, più il filo, vanno fatti passare qua in mezzo. Guardate. Ecco. Guardate. Questa è la giusta collocazione, altrimenti danneggerete soprattutto il filo elettrico e questa non vi entrerà bene. Imbattuta. Guardate quando io chiudo, vediamo se si vede bene. Aspettate. Sì, si vede bene. Quando io chiudo, vedete? Questa plastica nera qui, questa, che poi è quella che poi terrà la vite AP quando fisserete il cruscotto al telaio, deve entrare qua dentro e schiacciare una, due e tre fili. Tre perché uno è saldato insieme all'altro, altrimenti sarebbero quattro, ovviamente. Ok? Spero di essere stato chiaro. Adesso fate così. Poi, guardate, qui abbiamo questo. Ovviamente questo tubo andrà nel foro metallico e uscirà da qui. L'altro, questo, lo fate passare sotto, guardate, e esce di qua e lo tirate. Guardate il filo qui. Va bene? Non vi siete incollati i tubi nei perni come vi dico sempre in tutti i modellini che monto e mi dispiace per voi ragazzi perché facilmente vi si staccheranno. I tubi vanno incollati e mai con l'Attac, sempre con collanti come l'epossidico bicomponente oppure la colla, ad esempio, la contacta della Revel, quella col beccuccio lungo, una colla che ha l'involucro blu, col cappuccio giallo. Ma ce ne sono tante cole da modellismo, ma non usate mai l'Attac perché vi cristallizza le plastiche, le gomme e ve le rompe. Avete visto qui? Guardate bene perché meglio di così non ve lo posso spiegare. Questi non devono entrare qui dove adesso io ho lo stuzzicadenti, altrimenti rovinate tutto. Bene, andiamo avanti. Andiamo a fare le cose più facili. Adesso rimuovo questa vite. Vi leggo subito che vite è. Avete visto perché vi ho detto che è un video atipico? È un video atipico perché comincio dalla fine. Però, a mio parere, è il metodo migliore per spiegarvi tutto. Allora, queste intanto le vado a svitare. Bene. Adesso vi faccio capire ancora meglio. Questo è quello che dovrete fare voi. Guardate. Passate i fili così, li fermate momentaneamente con un nastro carta e li lasciate andare giù da questa parte. Ok? Bene. Poi, prendiamo la scheda elettronica. Schede elettronica che mi ero preparato ma non trovo. Eccola qui. E andiamo a rimuovere questi due cavi qui. A e D. Una volta rimossi, ricordatevi, questo si chiama maschio perché entra in un altro connettore che è più largo. Qua c'è una una collocazione, diciamo, ok. Quindi, guardate, qui invece abbiamo la femmina e questa che è più grande. Ok? Poi, adesso aspettate perché qui non deve andare guardate perché vi faccio mettere il nastro al contrario perché si stacca meglio poi. Questo deve andare così. Ok. quindi fermate questa parte qui e fate entrare i due fili aspettate che arrivo qua, in questo spazio vi fate passare, ok? e li lasciate momentaneamente giù così. Perfetto. fatto questo prendete i due cavi, questi, nero e rosso, lettera C e lettera E. quindi ovviamente andate a rimuoverli dalla scheda elettronica, fate attenzione quando li rimuovete e fate così, li fate passare qui, guardate. aspettate che lo faccio vedere bene. ecco. un attimo, adesso inquadro. guardate il passaggio, guardate bene il passaggio, il tubo del freno non viene toccato, non passa di qua ma da sopra e passa tra questa attraverso il metallo e questo l'equilibratore, qua la barra equilibratrice, ok? la stabilizzatrice, ok? non equilibratrice, la stabilizzatrice, questa. lo fate entrare, guardate bene, adesso io ve lo sfilo, guardate cosa devo fare, importante che vi aiuti. ok, vedete? siamo entrati qua, vi ho fatto vedere come, poi ne prendiamo uno alla volta, lo facciamo passare, guardate bene, qui. quindi il primo, per voi sarà tutto più semplice, che per me è più complicato, perché devo guardare attraverso il telefonino. Bene, uno e lo facciamo uscire così. qui c'è poco da parlare, che dovete guardare, ok? fatto questo, prendete quest'altra parte qui, una alla volta, sempre, ve l'ho fatto uscire fuori per farvi capire dove deve passare, altrimenti, se ce la fate col passaggio diretto, va subito fatto passare direttamente dietro, c'è adesso vi farò vedere, farlo uscire da qui. però c'è un passaggio importante, non ve lo perdete, adesso vi faccio vedere perché va passato sotto il tubo delle marmitte e non sopra. non vi preoccupate perché vi faccio vedere tutto, abbiate pazienza. una volta che vi farò vedere, dove deve passare tutto sarà più semplice, ma prima devo inserirlo per farvelo vedere. Vedete, questo è passato, adesso vi faccio vedere, guardate, spero che si veda. questo è passato correttamente, questo non va bene perché è passato sotto il tubo, questo di gomma, non va bene, quindi lo tiro fuori semplicemente un po' e lo faccio passare da sopra. Queste sono cose importanti, la macchina non è una macchina vera, non deve funzionare ma è così che deve essere messo. Ecco, guardate, io meglio di così non ce la faccio ragazzi a farvi vedere tutto. Vedete, i tubi, poi decidete voi come vi trovate meglio. io li ho fatti passare sotto questi della marmitta. Se volete farli passare sopra decidete voi. Io li ho fatti passare sotto perché? Perché una volta che apri il cofano motore non si vedono perché ci sono i tubi marmitta sopra. Il tubo di gomma, questo, passa sotto i fili quindi sono liberi, vedete? Bene. Fatto questo, prendiamo una fascetta ok e facciamo così non pizzichiamo ovviamente il tubo di gomma ma prendiamo soltanto i due fili rossi così poi vi faccio vedere tutto bene non vi preoccupate fatemi solo fare il lavoro sto cercando semplicemente di far passare la fascetta per bloccare questi ok ok aspettate che mi aiuto con una pinzetta la prendo facciamo così anche se sta questa pinzetta è veramente brutta cioè brutta non vale nulla infatti facciamo così vediamo se riesco così per me è tutto più difficile ve lo dico ve lo ripeto perché non devo uscire dall'inquadratura vabbè ragazzi guardate io messo metto pausa se non ce la faccio così e poi vi faccio vedere cosa ho fatto vediamo provo l'ultima volta così ah ce l'avevo fatta mi è scappato mamma mia ragazzi non ce la faccio a guardare attraverso il video e farvi vedere tutto vi faccio vedere poi come metto la fascetta e ci vediamo dopo ho voluto lo stesso riprendere come adesso andrò a metterla perché penso di aver trovato un metodo spero fate così prendete la fascetta non tagliatelo ovviamente adesso ho altre due ore di filmato e che pensavo di potervi aiutare ulteriormente ma vediamo se ce la faccio questi lavori quando si sa come farli con tutta calma li fate ok 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 allora adesso dobbiamo solo far passare questo sotto eccolo qua mamma mia ragazzi non sono una donna ma sembra un parto un parto guardate mettiamola subito in sicurezza che non mi si sganci più altrimenti invece di iscrivervi al canale vi cancellate ok non stringetela lo farete alla fine ve l'ho fatta mettere così perché poi la tirerete e la girerete sotto così ecco vedete guardate bene come ho preso la fascetta il tubo di gomma non l'ho preso questo qua spero che si veda ho preso solo i due cavi questi e li ho attaccati qui fatto questo loro ci dicono di mettere la fascetta voi fate quello che ritenete più giusto comunque questo poi rimane così qui io per adesso mi metto dell'altro carta le fascette posso mettere sempre dopo voi fate quello che ritenete più giusto per il vostro modello ok ecco qui e lo lasciamo momentaneamente qui bene poi ci occupiamo adesso di quello che ci dicevano di fare all'inizio quindi in questa uscita oltre alle fascette e alle quattro serie di diti a p a hp yp lettera finale p plastica non dovete usare nessun tipo di lubrificante am lettera finale m metallo qui mi sono avvalso di un lubrificante potrete usare qualsiasi lubrificante a vostra disposizione l'importante è che lubrifichiate e vi create il filetto e mi sono andato a creare i due filetti qui adesso vi faccio vedere qua in mezzo avvitate fino in fondo la vostra vita e vi create il filetto bene attenzione adesso fate molta attenzione a questo questi due fili qui dove vanno attaccati uno va qui e uno va qui su questo perno dove c'è la molla ditemi voi con tutto il pianale montato l'interno montato come facciamo con la parattia dietro a montare questi fili e allora cosa facciamo niente di più facile guardate prendiamo questo uno stuzzicadenti quindi fate attenzione a non farvi male lo inseriamo all'interno circa un centimetro lui si dilata ma non vi dovrete preoccupare perché poi lui tornerà all'origine una volta inserito nel perno però cos'è che vi dico sempre io che io vado a incollarmi tutti i tubi ed è quello che faccio quindi adesso metto un attimo pausa al video prendo l'epossidico bicomponente e andiamo a farci questi lavori ok è un filmato lungo ragazzi però sinceramente non riesco diversamente a spiegarvelo in cinque minuti ecco ecco qua vi ricordo che uno dei fili è più corto e l'altro ovviamente più lungo quello più corto va inserito qui levo lo stuzzicadenti metto un po' di collante all'interno del tubo assolutamente non sul perno altrimenti mi crea il collarino antiestetico e bruttissimo qui non si vede ma in altri punti si vedrebbe e vado a inserire questo qui il più piccolo lo vado a mettere qui avete visto come entra bene e siamo a posto adesso prendo questo non fatelo girare è il questo altrimenti snervate la gomma e la rovinate così ok ditemi voi come avremmo potuto fare questo lavoro diversamente. Ecco qui ok non è finita adesso lavoriamo qua quindi sposto il collante vado a svitarmi la vaschetta non perdete le diti altrimenti le rimontate subito qua e siete a posto. Adesso guardate bene qui abbiamo questo tubo questo che se guardate le immagini delle istruzioni se lo fanno piegare ovviamente perché deve inserirsi qui. Adesso vi faccio vedere questo deve inserirsi su questo perno qua bene ma se noi andiamo a girare il tubo così guardate cosa succede che si piega tutto quindi nelle uscite precedenti vi insegno una cosa avete ricevuto diversi tubi che avete avanzato prendete quello con la sezione che entra perfettamente all'interno del tubo eccolo qui vedete e lo fate andare fino in fondo lo adrizzate così lo fate andare fino in fondo guardate quando piegate il tubo cosa succede non fa più la piegatura di prima ma il tubo è veramente troppo lungo è ovvio quello che ci è un'altra parte prima di farlo sfido questo lo metto sopra così così guardo subito la piegatura che mi interessa ecco io lo metterei così che mi piace va tagliato mezzo centimetro andiamo a tagliare il tubo mezzo centimetro aspettate ecco qui prendo la forbici mi sto soltanto pulendo un attimo perché inadvertitamente ho messo il palmo della mano sulla colla e mi sono un po sporcato bene torniamo a noi così adesso però attenzione perché il tubo che andiamo a mettere all'interno dovrà necessariamente essere più corto almeno della lunghezza del perno altrimenti come facciamo inserire questo dentro quindi faccio così ok e lo vado a tagliare piuttosto un po più lungo lo faccio più corto se troppo lungo ma non parto subito deciso con la misura andiamo a vedere sopra come si presenta ancora va tagliato perché considerate che la lunghezza che dovete prendere non è quella contro la battuta di plastica argentata ma è quella più avanti perché c'è anche il perno che entra qui dentro quindi va tagliato ancora e provate senza fretta ecco dovremo esserci con un altro piccolo taglio e siamo a posto sì così ci siamo quindi inseriamo all'interno questo così bene lo facciamo entrare con l'altro tubo che ho tagliato essendo della stessa sezione entrerà perfettamente dentro è importante che arrivi fino in fondo altrimenti non è servito a nulla forse vado meglio con lo stuzzicadenti vediamo dovrete lavorare con il tubo diritto altrimenti non va bene proviamo a vedere se entra altrimenti lo tiro fuori con lo stuzzicadenti e lo rinserisco di nuovo proviamo e poi vi faccio vedere ma secondo me siamo a buon punto guardate che spettacolo non c'è una piegatura vedete è così che deve essere così quindi sfiliamolo ok anche se a mio parere va fatto ancora un po via facciamo così tiriamolo via eccolo qui ecco così siamo perfetti guardate vedete vedete ok mettiamo la colla abbiamo fatto un altro pezzo importante perfetto via lo inseriamo e questo è a posto che bello mi piace veramente tanto rimonto la vaschetta mi raccomando sempre che ne abbiate piacere non dimenticatevi di iscrivervi al canale grazie bene questo si è mosso da 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 vediamo un po vabbè non è un problema c'è questo pezzo qui vado a vedermelo dopo ma non è un problema perché ci sono i due perni qui vediamo la lunghezza da queste parti quindi non può essere che qua eccolo qui visto che siamo qui faccio che incollarlo ho la colla mettiamola 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 veramente di esservi stato d'aiuto non è finita ecco qua così bene a questo punto ci sono rimaste le cose più facili quindi prendiamo l'estintore che abbiamo trovato eccolo qui andate a levare gli stridi di lavorazione che avete qui e qui se ci sono passate il dito deve essere tutto perfettamente in piano altrimenti quando andrete a unirlo ovviamente creerà spessore e non vi consentirà di attaccarlo perfettamente prima di fare questo con questo cacciavite con la punta più piccola createvi l'invito ricordatevelo che è importante inserite così ecco qua che meraviglia ragazzi poi andiamo a vedere le viti da usare prendiamo due viti AP queste io sono andato già a crearmi il filetto avvitate le metà non fino in fondo altrimenti rompete no in realtà non rompete nulla perché le plastiche i fori sono passanti ma basterà così considerate poi lo spessore della plastica prendiamo il pianale o meglio questa che è l'apparatia posteriore e avvitiamo questo cosi cosi spero che non si interrompa il filmato diversamente sarò costretto a fare la seconda parte bene e avvitiamo ora ora vediamo tutto a posto possiamo stringere ok andiamo a collocare il nostro bellissimo estintore all'interno ah ragazzi che bellezza poi tra l'altro vi volevo anche far vedere la modifica che vi qui abbiamo l'apertura del gancio verso l'interno e anche qui abbiamo l'apertura del gancio verso l'interno andate a vedere il video straordinario stessa cosa per queste due qua sotto abbiamo il gancio che va verso il basso voi avete il gancio che va verso l'alto io l'ho messo verso il basso come deve essere però sono piccolezze niente di che fatto questo adesso fate così vi ricordo che avete già inserito questi due tubi che vi ho detto all'inizio e tutto quello fate così prendete il pianale questo va sotto ok rimuovo le due viti che ho messo prima ovviamente ragazzi mi sono dimenticato ovviamente perché ci va di questo nell'unotto termico o meglio dell'unotto posteriore e lo spec del vetro posteriore ma non è un problema lo potete mettere lo stesso anche così io mi sono già levato le imperfezioni che avevo che avevo qui e qui dovete fare la stessa cosa anche voi anzi tra l'altro ancora non basta guardate bene allargate di solo l'inizio del foro io l'ho già fatto con tutte e sei fori attenzione perché questo perno e questi due qui sono inclinati verso il basso in realtà lo sono tutti inclinati però vi consiglio di inserirlo così guardate prima il perno centrale non tutto appena appena e poi procedete con gli altri ecco a posto avete visto bene fatto questo avete visto ragazzi un'ora di filmato povero me quando dovrò andare a tradurre tutto ci metterò cinque ore se basta guardate qui ve l'ho fatto già vedere prima ma vi do un'ulteriore visione dell'insieme tubi oltre la barra dello sterzo all'interno qui ok i due tubi destra e sinistra dentro i fori questo pezzo deve andare a chiudere questi fili qui in mezzo quindi non vi sbagliate vi aiutate anche tirandoli da sotto l'importante che voi facciate questo e poi vi dico anche una cosa che purtroppo molti non considerano ma che va considerata altro che eccoli aspettate ragazzi voi non avete avete idea della difficoltà che ho io che è molto semplice adesso da montare ma riuscire a inquadrare tutto per voi è tutto più complicato il problema è solo quello quello che sentite in sottofondo è il mio fratellino il mio gatto tigrato europeo che ha poco più di due anni che si chiama Michelangelo ecco qui controllo sotto che il segmento sia entrato perfettamente bene ancora non va bene fate attenzione quando maneggiate il modello non toccare le marmitte termina i discarico li rompete ecco qua vi voglio far vedere una cosa ma posso farvela vedere solo quando ho inserito tutto correttamente perché è un errore comune a molte persone e non dovete farlo ecco dove guardate c'è il filo vi faccio vedere guardate qua non so se si vede vedete qui che veniva appizzicato il filo e vi spiego come potete accorgere oltre che vederlo questo lo facciamo passare qua in mezzo come vi ho spiegato così ci va pazienza nel modellismo guai a fare le cose di fretta non serve a niente fate solo danno ed è veramente un peccato perché il modello è bellissimo ecco guardate cosa vi volevo fare vedere un attimo che prendo le due viti ap quando andate a inserire il cruscotto attaccato al telaio questa parte in plastica dove poi va avvitata la vite ap non deve entrare con sforzo non dovete fare l'errore di schiacciare schiacciare perché tanto poi la vite tiene no no sbagliate se fate sforzo avete pizzicato i fili guardate invece adesso a me vedete che è tutto contro guardate sia qua che qua prima di mettere la vite è già contro qui è perfettamente il filo ed è così che dovete averlo anche voi altrimenti avete sbagliato quindi andiamo a fissare quindi andiamo a fissare andiamo a fissare bene ok che bello ragazzi ma che bello ok adesso guardate attenzione liberiamo questo io non li metto adesso i nastri neri perché perdere troppo tempo lo farò dopo a video spento fatelo voi non è un problema perché io dove andrò a mettere il nastro carta voi andate mettere il nastro nero ok mi sto tagliando delle sezioni di nastro di carta e arrivo bene adesso procediamo guardate prima cosa identificate il filo più corto anzi quello più lungo che quello che va dove c'è il pezzo di plastica con la molla che lo mettete così non li fate accavallare qui e lavorate con questo deve essere tutti in ordine così ecco qua quindi il filo più lungo prima guardate e lo fate entrare qua in mezzo filo più corto qua in mezzo filo rosso e nero sì buonanotte forse verde non sono dal tonico è stato un errore proprio di espressione di parola guardate che bellezza prendiamo questi non fate accavallare nulla li fate entrare ordinatamente e mettete il nastro dove volete voi io uno lo metterò qui fate scorrere tutto indietro avete visto ok poi fate così prendete uno e due tubi li fate passare una destra e una sinistra dal foro questo lo fate passare così e questi due se volete di qua non è un problema non dovete farli accavallare quando passate il dito sopra a quel pezzo di plastica lì che avete dove ci sapete devono essere a filo o sotto non superiori alla battuta mi raccomando guardate come sono ordinati avete visto lavorate bene perfetto a questo punto prendiamo sempre con del nastro nero io adesso metto questo ve l'ho già spiegato questo lo facciamo arrivare qui e lo blocchiamo tanto poi sarà da staccare di nuovo per inserire tutto e questo ci fa vedere un attimo che guardo perfetto questo se lo fa arrivare così ce lo fa bloccare qui vai e lo blocchiamo questi poi andranno qua e questi vanno all'interno poi nei successivi montaggi sarà tutto più chiaro avete visto ragazzi adesso ci dice di montare semplicemente il pianale ma non ve lo faccio vedere perché guardate vi dice semplicemente di mettere le viti a p non ve lo faccio vedere perché perché oltre a essere semplice il filmato è veramente diventato molto lungo spero che non vi siate annoiati ma meglio di così io non sono stato in grado di spiegarvelo meglio di così per me è impossibile quindi vi stavo facendo solo vedere poi ci andranno le viti a p queste e andranno messe qua una due tre e quattro e vi fissate questo poi vediamo che altre viti ma credo nulla sto controllando no nient'altro nient'altro questo poi vabbè sotto sopra poco conta una volta che avremo tutto sotto controllo ce lo fa vedere che passa da sotto ma quando metteremo il musetto capiremo dove farlo passare così ecco avete visto guardate che meraviglia ragazzi ma che bella è quest'auto ma quanto sei bella regina c'è chi si lamentava che era in plastica che brutta ma è come la volevate in metallo che quella vera è in vetroresina ecco qui adesso metto pausa un attimo prendo tutto quello che ho montato e poi ci salutiamo ed eccoci qua ragazzi bellissima un numero sicuramente molto impegnativo ma soprattutto perché non è spiegato come ho già detto all'inizio bene con le immagini e poi comunque bisogna fare attenzione perché se avete pizzicato i due fili rosso e verde tra la plastica dove ci sono i pedali e il metallo il passaruota anteriore sinistro e rischiate di danneggiarli ricordatevi quando montate delle parti in plastica dove poi ci va la vite le parti in plastica devono assemblarsi perfettamente senza necessariamente avvitare la vite la vite serve per tenere tutto in posizione ovviamente ma devono già andare in battuta se vedete che non vanno in battuta ve l'ho fatto vedere prima non insistete non avvitate perché siete nervosi o stanchi fermatevi e continuate un'altra volta ma non fate assolutamente errori di questo genere va bene ragazzi io vi ringrazio infinitamente del vostro tempo mi auguro davvero che voi abbiate visto il filmato fino alla fine perché è importante questo montaggio lo sono tutti ma questo è ancora più importante in più sicuramente soprattutto quando sono andato a posizionare la fascetta avrei potuto mettere la pausa ma ho cercato comunque di farvi vedere come metterla nel migliore dei modi poi ognuno di voi avrà un suo metodo e va bene così grazie ragazzi un abbraccio a voi un saluto a tutti i vostri cari più cari noi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando date un'occhiata alla playlist e se avete bisogno come ho detto già all'inizio di farvi montare un modello contattatemi privatamente perché io monto il modello con il cuore ciao a tutti ragazzi e forse ho dimenticato di dirvi ovviamente un saluto a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari ciao ciao